La polifonica Monforte non ha rinunciato alla gioia di regalare Campobassani uno dei più attesi eventi legati alla tradizione popolare. Parliamo dell'edizione 2022 del Carnevale dei 12 mesi, meglio noto come Mesaiola, inizialmente previsto per il 27 febbraio scorso, poi slittato a causa della neve. Il corteo è partito da Piazza della Vittoria, sfilato lungo le vie del corso. Punto di arrivo quest'anno Piazzetta Palombo, dove ha avuto luogo la vera e propria rappresentazione folcloristica. Una tradizione rinunciabile per la comunità campobassana che affonda le sue radici in un passato lontano. Quest'anno a vestire i panni del mese di maggio e a decantarne in dialetto le stravaganti peculiarità l'assessore comunale Luca Praetano. Grande protagonista dell'evento è il Re Carnevale, interpretato da Giuseppe Campestre, campobassano doc, musicista e attore della Compagnia Stabile del Molise, guidata da Paola Cerimele. Ringrazio il Re Carnevale, Giuseppe Campestre, Luca Praetano, l'assessore allo sport, per essere stati i nostri ospiti speciali. Speriamo che questo periodo possa scomparire e che possiamo tornare ad essere quelli che siamo, cioè felicità e spensieratezza e tanta tanta compagnia bella. Speriamo che questo periodo possa scomparire e che possiamo tornare a casa. Scusate, signoria faccia vostra. E' tu, e' tu? E' il settembre con la figa buccia E' tutto muscatello che è felice Che se l'annata mia fosse deprescia Che pensi che per coge me la liscia E' il settembre con la figa buccia E' il settembre con la figa...